Un altro notevole successo per gli amministratori della Val di Scalve si tratta dell'approvazione regionale con i relativi finanziamenti del piano di sviluppo rurale presentato a suo tempo dalla comunità montana. La Val di Scalve godrà così di cospicui finanziamenti da finalizzare ad una serie di iniziative economiche, sociali ed ambientali come ci ha spiegato il presidente Franco Bellingheri. Abbiamo riunito privati, enti e associazioni in una prima fase, abbiamo costruito un progetto di 6 milioni di euro finanziando una parte di agricoltura, una parte di ambiente e un'altra parte di turismo. Questo ci consente di avere la possibilità per i privati, per esempio che hanno le sciegherie, avranno degli interventi finanziati fino alla copertura del 40% a fondo perduto, per esempio l'acquisto di alcuni macchinari, eccetera. La cooperativa, la lateria montana, anche quella avrà modo di ristrutturarsi e acquisire alcune attrezzature, mentre per gli enti pubblici per esempio il ricupero di alcune cascine, alcune strade silvopastorali e anche da punto di vista sportivo una pista di fondo, questo addirittura con il 100% di partecipazione a fondo perduto da parte della regione. Quando partirà questo progetto? I bandi che riguardano l'agricoltura, due o tre misure, sono già fuori e entro 30 giorni dovremo presentare i progetti esecutivi. Gli altri invece abbiamo chiesto anche di ritardare un po' l'uscita del bando perché per esempio riferito ai pascoli, alle cascine sui nostri pascoli, abbiamo 4 metri di neve e non saremmo in grado di fare i rilievi per il progetto, quindi probabilmente verranno fuori a febbraio-marzo.